La metà ha deciso di andare sul pisganino, l'hai fatto ancora? Allora siamo andati su con la comunità, adesso alle 9 avevo fatto un diretto di rispondimento in acciaio Dopo siamo andati su verso il mare, ci siamo fatti una mezzanetta E poi abbiamo fatto la siglatta di discesa, faccio un po' di legno, bello, 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 bello La neve era bella, c'era un bel film No, 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 siamo partiti verso le 9, alla fine siamo arrivati su, verso le 11 e mezza Ci sono ancora incontro, ci sono apprezzati su, verso le 12 e La notizia è possibile, io vengono l'interno La notizia è possibile, io vengono l'interno Alcanzia è possibile, ovviamente, era, non, la notizia La notizia è possibile, è osservato, è assiettata A si guarda, peggone, la notizia La notizia è possibile, io, ammoksi, abitasse la notizia Sì 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 Poca salita e tanta discesa Meglio di così non si può Peccato alla fine il guado del fiume Sì 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 Sì